Dal finto avvocato per la polizza scaduta del figlio, ai falsi addetti dell'Enel e alle false vendite di creme miracolose. Ma ora, per l'ultimo caso della coppia ultraottantenne di Fano, siamo all'apoteosi, siamo arrivati agli effetti speciali. Petardi esplosi sotto i lavandini, fumogeni e fialette di gas per l'odore acre e insopportabile, il tutto per simulare una falsa fuga di gas. Sarebbe quasi da film comico se non fosse che la moglie di Sandro Gelsomini per questa messa in scena è finita all'ospedale e alla coppia hanno portato via i soldi in contanti e gli ori di famiglia. Ma quanti erano? Quattro. Quattro? Sì, due sono venuti su qui e dopo si è imparato che c'erano due di fuori con le motociclette, uno qua su in cima, sull'incrocio di via Papieria e uno qua giù. All'ultimo ho visto che loro non riuscivano a farci andare fuori, perché gli ho detto addirittura vado a prendere il fucile e vi sparo. Ah sì? Sì, gli ho detto anche questo. Poi all'ultimo ho visto, ha detto noi andiamo via, erano per le scale, voi se volete morire qui fate voi, perché la casa sta per scoppiare. Era satura di gas, ma è arrivati i carabinieri dopo a mezz'ora, hanno dovuto fuggire fuori. Non erano i soliti petardi. Era qualcosa di... Sì, gas, proprio gas, entrava nella gola, ti levava il respiro. Loro sono partiti, no? Io, stupido come sono, su un partito c'avevamo qualcosa nascosto in soffitta. No, si teneva quel poco d'oro perché a metà scale erano tutti e due, non pensavo che mi veniva su dietro. E come ha fatto? Gli ha strappati? No, io ero un po' così, passavo la testa e lui era sul vicino alla porticina di ingresso della soffitta, ha preso il secchietto e gli ho dato sul vasoio. Gli ha consegnato? Sì. Però non glielo voleva dare lei questi soldi? Eh, io... Li portava via per... Andavo di sotto, fuori magari, no? Se è vero o non è vero. È vero, ecco. Io non è per darli a loro. Ecco, quindi l'inganno è stato questo. Sì, l'inganno è stato questo. Perché si pensava, è e non è perché... Però c'era un po'... Nel dubbio? Il dubbio c'era perché fuori non ci volevano andare, non ci volevano andare noi a spingere. Gli dico, io minacciati andavo a prendere il fucile a metà corridoio, mi hanno tirato un petardo e via, torno indietro e dopo uno è con la testa. C'è una cosa, diciamo, passeggeri a cinque minuti, quasi mezz'ora, una pianta, mia moglie urlava, però non c'è stato nessuno, hanno udito quegli spari, hanno udito gridare. Nessuno? Nessuno, 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 c'è fatto avanti. Ma nella via non è il solo episodio accaduto. Nella notte tra lunedì e martedì scorso, i ladri in piena notte si sono introdotti nella casa del vicino di casa di Gersomini, sfilandogli i soldi dal portafoglio. Alle due e mezzo, alle tre di notte, non lo so, non mi sono accorto di niente, niente proprio, i pantaloni li hanno messi nel salone, hanno preso il portafoglio e si sono andati nel garage. Hanno smistato tutto, hanno portato via solo i soldi, hanno portato via un anellino, più un ricordo di mia madre e un orecchino.